Inaugurata al Museo della Pesca di San Periciano Maggiore, la mostra sfumature del Trasimeno, a cura dell'Associazione Cortona Photo Academy. Questa mostra nasce per, innanzitutto, ovviamente, celebrare il territorio, anche perché io personalmente abito in San Periciano e rientra poi in un'attività, è un'attività collaterale al settantesimo congresso nazionale FIAF, FIAF è Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, è una federazione nazionale di cui ricorre il settantesimo quest'anno e il congresso nazionale avverrà a Cortona. Questa mostra, quindi, vuole aprire sì la stagione museale del Museo della Pesca, ma comunque portare anche fuori regione, diciamo, il nostro territorio, nel senso che una giornata del congresso nazionale verrà svolta qui in visita a San Periciano, diciamo, nel Trasimeno, con visita appunto sia al museo che a questa mostra qui. Le immagini, ovviamente, riguardano il territorio, prevalentemente il territorio del Trasimeno, con tutte le sue accezioni, dove abbiamo sia foto prevalentemente paesaggistiche, ma anche un po' particolari, abbiamo riflessi, abbiamo tutto quello che offre più o meno il Trasimeno. Da qui la mostra, il titolo della mostra che è appunto Sfumature del Trasimeno.